Facciamo il primo passo. È il motto del ventesimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Colombia tra il 6 e l'11 settembre. L'appuntamento, annunciato nove mesi dopo la firma dell'Accordo di Pace dell'Havana, intende anzitutto suggellare il nuovo corso di riconciliazione nazionale dopo anni di sanguinosi conflitti. La visita si dipanerà seguendo differenti temi giornalieri. A Bocotà l'ambito prescelto sarà artigiani di pace e promotori della vita. A Villa Vicenzi l'accento verrà messo sulla riconciliazione. A Medein, vocazione cristiana e apostolato, mentre a Cartagena protagonisti saranno il tema della dignità della persona e quello dei diritti umani. Sull'importanza di questo viaggio, tanto atteso in questo momento preciso della storia del paese, abbiamo raccolto il commento del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. La visita del Papa in Colombia ha un carattere essenzialmente pastorale, come del resto tutte le visite del Papa nei vari paesi e quindi ha lo scopo, ha l'intenzione diciamo di incoraggiare, di confermare, di incoraggiare i fratelli nella fede, di vivificare la loro carità e di spronarli a vivere la speranza cristiana. Ma naturalmente si colloca in un momento molto particolare della vita di quel paese, quando è iniziato un processo di pace dopo 50 anni di conflitti e di violenza. Questo lo rende particolarmente importante. Il Papa, appunto, come pastore della Chiesa Universale e come leader spirituale vuole affiancarsi a questo processo, ecco, e incoraggiare questo processo perché davvero dopo tanti lutti, tante distruzioni, tante sofferenze, il popolo colombiano, la nazione colombiana possa conoscere una nuova realtà di pace e di concordia. La pace è stata finalmente raggiunta, entriamo ora in una delle fasi più delicate. Quali sono gli aspetti ai quali la Santa Sede e la Chiesa Locale guardano e incoraggiano con maggiore attenzione? Entriamo nella fase dell'applicazione perché non basta firmare un documento, certamente è necessario, un passo necessario, indispensabile, ma evidentemente non è sufficiente. C'è tutto un cammino da fare a partire proprio dalla, diciamo, dalla firma, ecco, dalla sottoscrizione di questi accordi. Ed è un cammino che si deve compiere nella quotidianità, è un cammino che deve coinvolgere tutti e che deve coinvolgere tutto di tutti, cioè soprattutto il cuore e la mente. Io credo che il compito, diciamo, il ruolo, la missione fondamentale della Chiesa in questo momento sia quello di favorire la riconciliazione. Ecco, direi proprio questo è il punto centrale. Mi pare che ce ne sia tanto bisogno, proprio perché la pace non sarà, diciamo, una realtà presente, una realtà viva ed effettiva, se non nella misura in cui ci sarà una riconciliazione all'interno del popolo colombiano. E naturalmente uno degli strumenti principali, ecco, di questa riconciliazione è la capacità del perdono, la capacità di dare e di ricevere perdono. Qual è la vita della Chiesa oggi in Colombia? Ma io credo che si tratti di una Chiesa, una Chiesa viva, ecco, e di una Chiesa generosa che è vissuta in un contesto appunto di conflitto e di violenza che in parte l'ha colpita anche, no? Ma che non si è lasciata intimidire, che non si è lasciata, diciamo, spaventare, impaurire e che ha continuato ad accompagnare i suoi fedeli, quali si sono sentiti appunto molto incoraggiati, ecco, e sostenuti nella speranza proprio da questa presenza della Chiesa. Una Chiesa che lavora, lavora seriamente per la difesa e la promozione della dignità della persona e per la difesa e la promozione dei diritti umani, soprattutto attraverso le sue molte opere di carità e di solidarietà. Il motto della visita è Facciamo il primo passo, un invito a tutti a essere missionari di riconciliazione. In concreto, come è possibile farlo, soprattutto pensando alle tante ferite ancora aperte oggi? Sanare i cuori, curare le ferite, no? Ridare speranza che poi è un po' come il carburante che alimenta, ecco, un cammino concreto di riconciliazione e di pace. Questo motto mi pare importante ecco perché è declinato al plurale, quindi coinvolge tutti, no? Ecco, tutti devono sentirsi coinvolti in questo cammino, in questo processo, in questo itinerario. ... ... ...